Sì, una grande vittoria, un po' inaspettata perché siamo andati a vincere sul campo della seconda in classifica nettamente. Avevamo perso in campionato male qua, avevamo voglia di riscattarci e anche oggi abbiamo dimostrato che nel bene e nel male siamo una squadra contro cui è difficile giocare. Per fortuna oggi il terzo set non ci è costato caro come con Bergamo e Castellana Grotte, ma siamo riusciti a tenerli sotto e a fare un'ottima prestazione. Adesso l'intenzione è quella di proseguire con questa costanza di gioco perché abbiamo bisogno di ritornare a fare i punti in campionato, per cui usciamo da un campo difficile con un tifo simpaticissimo contro, molto caldo ma corretto, quindi andiamo a casa con questa semifinale di Coppa Italia.